Stop 5G in Abruzzo prosegue questa marcia di contrarietà a questo 5G, oggi c'è questo incontro a Montesilvano dove ribadite le vostre motivazioni e la vostra contrarietà a questo progetto. Il 25 gennaio sarà assolutamente un'intera giornata di sensibilizzazione sui rischi della tecnologia 5G e gli eventi che stiamo promuovendo e realizzeremo sabato prossimo in tutto Abruzzo sono inseriti all'interno di un contesto più ampio sia nazionale ma si può dire planetario. A livello nazionale noi essendo come Stop 5G Abruzzo aderenti all'alleanza italiana Stop 5G ci coordiniamo anche con le altre regioni, in particolare nella nostra dove possiamo vantare di un gruppo attivissimo e in contemporanea simultaneamente con eventi diversificati per tipologie inizieremo dalle 9 della mattina fino alle 9 della sera praticamente tutti i nostri gruppi attivi nel territorio promuoveranno eventi che andranno dai convegni a volantinaggio e anche a concludere poi il tutto e con l'evento che si verificherà a Montesilvano in cui vogliamo veicolare le informazioni attraverso le varie forme d'arte. Ho iniziato una fitta collaborazione con il comitato Stop 5G nella misura in cui noi riteniamo che la tecnologia debba assolutamente progredire come sta facendo sul territorio ma al tempo stesso senza nuocere alla salute dei cittadini. In questo caso il 5G, la nuova tecnologia è in fase sperimentale quindi non si sanno ancora gli effetti che può questa avere sulla cittadinanza e quindi sui nostri cittadini motivo per il quale da subito ci siamo impegnati anche in Consiglio Comunale votando una delibera all'unanimità per ragionare l'introduzione del 5G solo quando appunto certi della non nocività per la salute dei cittadini.